Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, l'edizione live delle 10. Apriamo subito con le ultime che andiamo a leggere sulle agenzie, in questo caso sull'agenzia ANSA, sul sito web, sul portale di informazione che ormai già da ieri ci anticipa che si va verso una Pasqua in rosso. Se possiamo andare sul nostro touchscreen vi mostriamo il titolo di apertura con la foto sul sito dell'ANSA, verso una Pasqua in rosso. Per le scelte si guarda ai dati, i dati che sono in questo momento in analisi da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Nelle prossime ore questi dati daranno poi un risponso che verrà consegnato al Governo, ci sarà un Consiglio dei Ministri nella giornata di domani e domani arriveranno delle decisioni. Tuttavia alcune regioni hanno già anticipato le misure, la Puglia per esempio anticipa la stretta, 5 comuni diventano zona rossa in Sicilia, De Caro stop all'asporto dalle 18, negozi chiusi alle 19, in Piemonte sospesi tutti i ricoveri non Covid. Quindi arriverà una stretta sicuramente a partire dalla prossima settimana che potrebbe portare anche nelle zone di colore giallo a delle restrizioni più rigide. In ogni caso il punto fermo è quello di trasformare immediatamente in rosso delle aree del Paese nel momento in cui dovessero raggiungere i 250 o più contagi per 100.000 abitanti. Questa purtroppo è una situazione borderline nella quale si trova la nostra regione, nella quale si trova anche il Veneto e si spera davvero che si riesca alla fine ad ottenere un dato che non spedisca direttamente la nostra regione in colore rosso. È escluso al momento secondo le indiscrezioni che arrivano dal governo, è escluso il ricorso ad un lockdown generalizzato. Dunque si cercherà di creare meno disagi possibile alla popolazione ma anche alle attività economiche che già hanno sofferto e tanto da un anno a questa parte. Ma andiamo a vedere il servizio che ha preparato l'agenzia ANSA proprio sulle anticipazioni di quelli che sono i primi dati analizzati e il primo responsore da parte del comitato tecnico scientifico e quali potrebbero essere i provvedimenti del governo. Una stretta delle misure già a partire dal prossimo weekend per frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti. Zone rosse più rigide, modello codogno, movimenti limitati anche in zona gialla, chiusure nei fine settimana come avvenuto durante le vacanze di Natale. E allo stesso tempo estensione della campagna vaccinale a più soggetti possibile nei tempi più brevi. Questa è la posizione che gli esperti del comitato tecnico scientifico hanno consegnato al governo che dovrà a stretto giro valutare in che misura cogliere le indicazioni. Esclusa per ora l'ipotesi di un lockdown generalizzato, come era ad attendersi dunque, il comitato è attestato sulla linea dura, considerata la curva in rialzo dei contagi e gli ospedali in sofferenza con le terapie intensive al di sopra della soglia critica in tante regioni. Vanno limitati i contatti interpersonali e le misure attualmente in vigore non bastano, tenuto anche conto dei ritardi sui vaccini. Da qui l'indicazione è irrigidire le misure in ogni zona colorata, ristabilendo nel contempo il contact tracing e potenziando il sequenziamento del virus per individuare prima possibile le varianti. Ribadita anche la necessità di introdurre il criterio dell'incidenza settimanale, con 250 casi ogni 100.000 abitanti, si va automaticamente in zona rossa. Si va automaticamente in zona rossa dunque con questo parametro, l'unico parametro del quale si ha certezza perché è uno dei provvedimenti previsti dal governo per la stretta in arrivo, ma andiamo a vedere com'è la situazione, quali sono gli ultimi parametri che arrivano dall'Italia. Per esempio, dobbiamo vedere la situazione Covid in Italia e vediamo le cifre, i numeri parlano chiaro. 22.409 l'incremento dei nuovi positivi nella giornata di ieri con 13.752, un saldo positivo a favore purtroppo dei nuovi contagi, di 8.191 persone che hanno portato di nuovo a quasi 500.000 il totale delle persone positive in Italia in questo momento. In precedenza, qualche settimana fa, il dato dei gueriti era sempre superiore, anche in maniera considerevole rispetto a quello dei nuovi contagi, la situazione si è di nuovo capovolta, segno che siamo nel pieno della terza ondata, ormai su questo non c'è assolutamente più dubbio. Andiamo a vedere anche la situazione relativa alla nostra regione, in fluo di Venezia Giulia, ieri quasi 900 nuovi positivi, con un balzo di 268 rispetto al giorno precedente, quando però era una domenica e dunque i tamponi effettuati erano stati molto meno dei 9.558 fatti nella giornata dell'altro ieri, con riferimento poi ai dati che sono stati proposti nella giornata di ieri. Il totale dei morti ci avvicina purtroppo alla spaventosa cifra delle 3.000 vittime nella nostra regione, c'è un rapporto contagi-tamponi che è arrivato al 6,51% nella nostra regione, un dato che è in aumento purtroppo. Questi sono tutti i parametri che ci pongono nella condizione di temere il passaggio alla fascia di colore rosso, a partire dal prossimo provvedimento che prenderà il Ministero della Salute sui dati elaborati dall'Istituto Superiore della Sanità e poi con il Comitato Tecnico Scientifico che sta per comunicare al Governo quali sono le risultanze di questa analisi e consigliare da farsi, poi sarà una scelta politica se chiudere, come chiudere, quando chiudere, per quanto tempo chiudere l'Italia di nuovo a 365 giorni, 366 con oggi dal primo lockdown dovuto al Covid. È intervenuto anche Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi ieri in un messaggio pubblicato su Facebook ha parlato delle vaccinazioni, ha parlato di un paese in difficoltà e della necessità di farlo rialzare anche dal punto di vista dell'economia attraverso proprio la vaccinazione di massa e le cure mirate sul Covid per sconfiggere questo virus, questa pandemia. Sentiamo Berlusconi. Come sapete stiamo attraversando la più grande emergenza della storia italiana dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi. L'Italia piange centomila morte e il numero dei contagi è tornato a salire in maniera molto preoccupante. L'emergenza sanitaria e quella economica che ne consegue potranno finire soltanto quando finalmente sarà immunizzata la gran parte degli italiani e questo si dovrebbe ottenere entro la prossima estate. Ma per farlo ci servono più dosi di vaccino. Finalmente Pfizer ha dato garanzie sulle nuove consegne che consentiranno di imprimere un'accelerazione nelle somministrazioni. Abbiamo anche buone prospettive per altri vaccini e anche per quanto riguarda il vaccino russo, lo Sputnik, che secondo gli esperti funziona molto bene. Il piano vaccini che Forza Italia ha studiato e da proposto al governo dimostra che creando una rete di somministrazione pubblica e privata, civile e militare, che lavora in maniera coordinata, sarà possibile somministrare 500 mila fiale al giorno. Riteniamo comunque che si debba scongiurare un nuovo lockdown generalizzato che potrebbe avere conseguenze molto gravi sulla nostra economia. Dobbiamo quindi garantire agli italiani delle decisioni ponderate per quanto riguarda i divieti per i cittadini. Dobbiamo anche garantire agli imprenditori risarcimento adeguati e veloci per coloro che si vedranno obbligati a fermare le loro attività. A quanto pare il lockdown generalizzato sarà comunque scongiurato. È scongiurato perché lo ha detto anche il governo, l'ha fatto sapere anche il governo dalle prime indiscrezioni che sono arrivate. Domani tuttavia ci sarà il Consiglio dei Ministri e ne sapremo qualcosa di più. Ma intanto dall'Europa arrivano buoni segnali per quanto riguarda l'approvvigionamento delle dosi e anche la possibilità di arrivare a produrre tantissime dosi verso la fine di quest'anno. Arrivare ad un punto in cui si potrà davvero soddisfare con la produzione in Europa il fabbisogno dei vaccini perché la vaccinazione non riguarderà soltanto il 2021 quest'anno ma sicuramente bisognerà ripeterla anche nei prossimi anni. All'Europa in tal senso si sta attrezzando. Sentiamo Giulia Garofa, la nostra corrispondente da Bruxelles, intervenuta ieri agli speciali del Tg proprio su questo tema. Dunque inizierei con le novità di oggi sulla strategia vaccinale dell'Unione Europea. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato questa mattina ai giornalisti di Bruxelles che sono state ordinate 4 milioni di dose aggiuntive da BioNTech-Pfizer e che saranno disponibili attorno a fine marzo. È un annuncio che è arrivato in concomitanza con il dibattito apertosi proprio in questi giorni su quello che è diventato per i media e per gli osservatori europei un intrigo internazionale. Mi riferisco al caso dell'accordo tra Russia e Adion Pharma e BioNTech per produrre l'antivirus Sputnik in Italia, nello stabilimento della Brianza, ad opera dell'azienda svizzera. E stando a quanto comunicato da Palazzo Chigi, il Premier Mario Draghi è chiaramente allineato al pensiero di Bruxelles, dove comunque c'è stata una qualche reazione. I vertici UE infatti si sono espressi criticamente, in merito a quest'intesa, tra la società svizzera e il produttore russo riguardo alla produzione del vaccino in Italia. E anche se tale mossa potrebbe aumentare gli stock di antivirus accelerando la campagna vaccinale del nostro paese, sembrerebbe tuttavia, stando a quanto riportato anche dai media nazionali, che Sputnik non sarebbe comunque usato in Italia, ma destinato ad altri sistemi sanitari. Insomma, verrebbe utilizzato all'estero. Quindi per lui l'intesa sarebbe rilevante per la strategia unionale dell'Unione Europea, ma anche per l'Italia, dato che ci vorrebbero ancora dei mesi prima che il vaccino russo venga provato, prodotto e distribuito. Inoltre, Bruxelles ha annunciato che conta che per la fine del 2021 l'Unione avrà raggiunto una capacità produttiva di dosi tra i due e i tre miliardi l'anno. Più sentenzioso invece è stato Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, nell'affermare che non dovremmo lasciarci ingannare dalla Cina e dalla Russia, i cui regimi hanno valori meno desiderabili, queste le parole di Charles Michel, dei nostri europei e che organizzano molto spesso operazioni limitate e pubblicizzate ampiamente il riferimento a uno scopo di propaganda per fornire vaccini ad altri paesi. e dunque si sta lavorando in Europa per avere una produzione in proprio, ma intanto nell'immediato arriveranno dunque altre dosi da parte della Pfizer, 500 mila dosi dovrebbero essere destinate all'Italia sui oltre 4 milioni di dosi che arriveranno in più nel continente europeo, ma sul fronte europeo continua la disputa sull'utilità dell'Europa, in questo ovviamente il dibattito investe le forze politiche, se in Italia devono convivere forzatamente Partito Democratico e Lega per assicurare il sostegno alla maggioranza al Premier Draghi, sul piano dell'Europa non mancano le scintille, ieri sera una di queste scintille è scoppiata proprio agli speciali del Tg, dove si sono confrontati sul tema dell'utilità dell'Europa, dell'Europa attuale, quella che conosciamo adesso e del suo funzionamento, si sono confrontati l'assessore allo sviluppo della Regione Veneto Roberto Marcato e l'europarlamentare Elisabetta Gualmini, vediamo. L'Europa non è altro che una sommatoria di paesi che hanno in comune una moneta, punto, non c'è stato nessun programma di unificazione fiscale, di unificazione sanitaria, di omogenizzazione della sicurezza, delle polizie, non c'è stato nulla di tutto questo, noi ci siamo preoccupati di avere una moneta unica. L'Europa che non è riuscita a unificare nulla da un punto di vista della peculiarità dei vari paesi, però pretende di omogenizzare da un punto di vista commerciale, le attività produttive, è la roba che non stanno in cielo o in terra, perché se è vero, come è vero, che ogni paese ha le proprie caratteristiche, le proprie peculiarità, com'è possibile immaginare dei provvedimenti che vadano bene dalla Sicilia all'estremo nord? Ma che senso ha? Ma che senso ha? Gualmini, Gualmini, prego. Dunque, ma stiamo scherzando, cioè qui si dà la croce sull'Europa, cioè si pretende che l'Europa sia unita e abbia competenze comuni quando sono gli stati e in particolare i partiti anti-europeisti, quelli a cui l'assessore marcato appartiene, che non vogliono dare competenza all'Europa, quindi non si può chiedere all'Europa di fare, no 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 mi lascio finire, non si può chiedere allo stesso tempo all'Europa di fare politiche sanitarie comuni quando si spinge perché l'Europa faccia poco e nulla, cioè perché si esca dall'Europa, perché si esca dall'euro, quindi non è che ci possiamo prendere in giro, o noi vogliamo un'Europa che abbia competenze serie e un coordinamento stretto sulla sanità, l'Europa ha fatto miracoli nell'ultimo anno, i cittadini lo sanno, ha fatto miracoli, oppure diciamo come dite voi, l'Europa deve essere una struttura leggera, gli stati devono comandare e fare tutto e però poi non possiamo lamentarci perché ci sono i ritardi nei vaccini, quindi io non ci sto a questa logica assolutamente assurda, perché mi stanno rizzando i capelli e dopo non mi si può vedere in tv, cioè c'è un limite a tutto. Confronto acceso dunque sull'utilità dell'Europa al servizio delle varie nazioni, come avete potuto vedere la Lega e il Partito Democratico, come questo già lo sapevamo, dissentono in maniera abbastanza netta, come dicevamo in Italia, sono costretti forzatamente ad andare avanti insieme per garantire la maggioranza e l'appoggio al Premier Draghi, ma sul piano europeo la battaglia, lo scontro politico continuo. Adesso ci trasferiamo ad Udine dove siamo collegati con Francesca Santoro per parlare di una iniziativa di Lega Ambiente legata al mondo della scuola. Buongiorno Francesca. Buongiorno Francesco, con noi Karen Bori, responsabile Scuole per Lega Ambiente Udine, è appena uscita la ricerca Ecosistema Scuole, una ricerca importante che riguarda in particolare le scuole dei ex capoluoghi di provincia, nel caso della nostra regione, tre sono gli ex capoluoghi che hanno risposto, esclusa Trieste che non ha aderito appunto a questa indagine. Cosa emerge per la nostra regione dai dati raccolti? Buongiorno, allora intanto evidenzio i dati di partenza, per cui noi abbiamo un patrimonio edilizio regionale abbastanza vecchio. Il 70% delle scuole della nostra regione è stata costruita prima del 1974. Solo il 3% degli edifici è recente. Tra l'altro noi siamo in zona sismica e quindi dobbiamo evidenziare come c'è ancora una percentuale di scuole per le quali non è stata effettuata la verifica rispetto alla vulnerabilità sismica e da un punto di vista energetico, essendo appunto un patrimonio abbastanza vecchio, abbiamo edifici che sono tra la classe D e la classe G. Quindi necessitano interventi anche consistenti. Emerge comunque la volontà delle amministrazioni di provvedere a un modernamento di queste strutture scolastiche? Assolutamente sì, perché negli ultimi 5 anni il 53% degli edifici è stato interessato da interventi di manutenzione straordinaria. Rispetto alla media nazionale, tra l'altro, la durata dei lavori è stata comunque breve, nel senso che gli interventi si sono conclusi entro i 200 giorni e sono stati conclusi il 64% dei progetti finanziati. C'è da dire che abbiamo ancora un 12% di scuole che avrebbero bisogno di manutenzione straordinaria, quindi è iniziato un percorso che dovrà continuare nei prossimi anni. Tra le tre province c'è qualcuna che si è dimostrata più reattiva delle altre? Sì, la provincia di Gorizia si è distinta positivamente per tre aspetti. Uno perché a Gorizia sono state costruite dei nuovi edifici scolastici, cosa abbastanza rara, hanno provveduto alla verifica di tutti i solai degli edifici e hanno anche fatto la verifica sulla vulnerabilità sismica di tutti gli edifici del comune. Una parte dell'indagine è dedicata invece ai servizi, quindi mense, scuola, bus, cosa emerge su questo fronte? Sì, perché quando noi parliamo di scuola non dobbiamo pensare solo alla struttura, ma dobbiamo pensare anche a tutto quello che la scuola offre agli studenti, soprattutto quelli piccoli. Quindi noi abbiamo evidenziato come il 60% delle scuole ha comunque delle classi in cui c'è il doposcuola. Da un punto di vista delle mense, mediamente c'è un'attenzione alla qualità dei pasti che vengono somministrati, naturalmente con differenze da comune a comune. C'è una discreta presenza di impianti sportivi nelle scuole, anche lì ci sarebbero grandi margini di miglioramento. E un'altra cosa che vorrei sottolineare è l'attenzione delle amministrazioni al finanziamento di progetti educativi all'interno delle scuole o all'interno del comune. I dati raccolti da questa indagine sono tenuti in considerazione, cioè servono appunto come pungolo per le amministrazioni o per chi deve provvedere ai servizi della scuola? Allora sì, perché esiste ormai un rapporto consolidato anche con gli uffici scolastici regionali e anche con il Ministero, per cui la speranza è che questi dati servano per scattare una fotografia in cui evidenziamo gli aspetti che sono forse più, che necessitano di intervento e invece permettono anche di mettere in luce quello che sta funzionando. Grazie allora Karen Bori di Lega Ambiente, a te Francesco. Grazie, cambiamo adesso argomento, apriamo la pagina sportiva, ci colleghiamo subito con la Dacia Arena dove c'è Alessandro Surza che fa il punto della situazione in casa a Bianconiere. Ricordiamo che l'Udinese ha ancora una volta dovuto lavorare su una settimana corta perché si giocherà sabato, siamo dunque alla vigilia della giornata di definitura che sarà quella di domani quando avremo le indicazioni più precise, però intanto qualcosa già si può dire Alessandro in particolare su quelli che sono i calciatori dal punto di vista della disponibilità in questo momento borderline. Sì, buongiorno Francesco, un saluto a te e ai nostri amici da casa. Esatto, come hai detto tu, altra settimana corta con l'Udinese che sarà di scena a Marassi sabato alle 20.45 e quindi vigilia di rifinitura come hai detto tu o antivigilia di giornata di gara che appunto sarà sabato. E per quanto riguarda i giocatori così acciaccati al limite dell'utilizzo, le novità insomma sono che oggi dovrebbe rientrare Okaka e questo è la deadline che era stata data al numero 7 che è previsto in gruppo proprio oggi per poi completare tutto l'allenamento anche di rifinitura domani e guadagnarsi qualche minuto uno spezzone di gara contro il Genoa. Ricordiamo che lui non gioca dalla gara contro il Parma dove aveva tra l'altro dato in là alla rimonta a bianconera con il gol di testa, al terzo gol in campionato per lui dopo gli altri due di testa che aveva siglato all'andata contro la Fiorentina. Okaka che però ovviamente è stato tenuto tranquillo a riposo nelle ultime partite proprio perché veniva già da un infortunio lungo che l'aveva tenuto fuori da fine novembre a tutto dicembre e tutto gennaio quindi due mesi e mezzo circa di conseguenza non si voleva correre il rischio di affrettare i tempi e quindi lui adesso con oggi dovrebbe essere al 100% abile e arruolabile per giocare quindi a Genova. Gli altri due punti di domanda riguardano ormai da qualche settimana Gerard Deulofeu e Thomas Aweian e purtroppo io ti rispondo con altri punti di domanda nel senso che i due giocatori dell'Udinese migliorano, stanno meglio. Ieri abbiamo visto anche Aweian correre in campo allenandosi a parte ma il dolore alla piano del piede non è ancora del tutto sparito. Di conseguenza probabilmente veramente solo nelle ultime ore si saprà se potrà giocare l'olandese come lo spagnolo. La sensazione è che si vada verso il ni, cioè più no che sì o magari verranno portati in panchina ma in caso di necessità un po' come fatto per Forestieri non verranno rischiati. Ricordiamo tra l'altro Nando Forestieri è l'altro giocatore che invece ci sarà a Genova. Per lui Gotti aveva speso le parole spero di non utilizzarlo per non rischiare qualora proprio non dovessi farne a meno. Lui è a disposizione ma spero di non utilizzarlo. Ecco questo potremo fare il copia e incolla per Deulofeu e Aweian. Il Genoa dall'altra parte si appresta ad affrontare l'Udinese senza destro, capocanone della squadra e Masiello. Perdite importanti. Davanti per Balardini ci sarà la coppia Scamacca-Shomurodov. E di conseguenza l'Udinese punta a continuare questo periodo positivo. Ma non solo Udinese Francesco perché questa sera alle 20.45 scende in campo anche l'Apu l'Old World West che affronta nel recupero dell'undicesima giornata Tortona terza contro prima. Di conseguenza sfida proibitiva, sfida complessa per la squadra friulana che però deve blindare il terzo posto e vuole ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo essersi ripresa con Urania Milano nell'ultimo turno. Di conseguenza partita importante da non sbagliare per l'Apu che questa sera è chiamata come detto. È una gara difficile ma le possibilità per fare bottino pieno ci sono in come. A te Francesco. Grazie Alessandro. Tornando un attimo al calcio ma per un altro motivo, per fare gli auguri a Giampiero Pinzi. Vediamo uno striscione, un cartello che è stato affisso oggi all'esterno della Carraia dove i calciatori entrano per andare a prepararsi per gli allenamenti e gli spogliatoi. Questo messaggio da parte del club di Giampiero Pinzi. Buon compleanno per i 40 anni a Giampiero Pinzi 66 dal club di Carniacco. Questa è la foto ma noi andiamo a mostrarvi anche la pagina della Gazzetta dello Sport attraverso il nostro touch dove vediamo una pagina intera dedicata al personaggio del giorno che è Giampiero Pinzi con i suoi 40 anni oggi. Facciamo gli auguri a Giampiero anche tutti noi. Le dichiarazioni di Pinzi, Pozzo e Passione, Gotti e Chiarezza ma all'Udinese il top resta di Natale dice Pinzi. L'ex mediano adesso è nello staff bianconero e poi parla di Mac and Go e dice mi ricorda un po' Asamoah. Scherza anche su come ha affrontato insieme all'Arsen il post rigore di Milano, il tocco di mano del danese che ha negato purtroppo all'Udinese una vittoria che ormai sembrava a portata di mano a Struger-Larsen dopo il fallo di mano col Milano dato un pallone di volley e ho detto gioca con questo e tutta la squadra ha riso stemperando la tensione. Poi l'Arsen è sceso in campo nella gara contro il suo solo, giocando peraltro molto bene e contribuendo anche lui ad un importante successo da parte della squadra bianconera. Prima di chiudere vediamo i programmi tv di oggi della rete, i telegiornali, dalle 12 torneremo in diretta con il nostro notiziario, poi lo spazio dedicato allo sport alle 15, ancora i notiziari in diretta alle 16, alle 19, il Tg Veneto alle 20 e 30, alle 21 ci sarà l'appuntamento con l'agenda di Alberto Terasso che si occuperà del mondo del volontariato in questo periodo di Covid. Vediamo anche la grafica che ci annuncia il titolo della puntata in programma questa sera alle 21 su Udinese TV. Grazie per essere stati con noi, vi lascio al Meteo, le previsioni di 3B Meteo, noi ci vediamo alle 12 di nuovo in diretta. Un saluto ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì correnti umidi apporteranno una maggiore variabilità sul Friuli Venezia Giulia con nuovi a tratti anche compatte. In dettaglio tra Udine e Pordenone la giornata sarà caratterizzata dal transito di parecchia nuvolosità a tratti anche compatta soprattutto sui rilievi, deboli precipitazioni tra la sera e la notte non escluse sulle prealpi giulie. Il clima sarà freddo al mattino con minime intorno allo zero, temperature massime non oltre i 10-12 gradi. Diamo uno sguardo anche alla situazione attesa tra Gorizia e Trieste, l'avvio di giornata vedrà anche qualche schiarita ma poi anche qui aumenterà la nuvolosità, in serata sarà anche compatta. In serata si segnalano anche deboli precipitazioni sul Goriziano e che nella notte andranno occasionalmente ad interessare anche Trieste. Temperature minime prossime allo zero su Gorizia non oltre i 4 gradi su Trieste, temperature massime intorno ai 10-13 gradi. Con questo per il momento è tutto ma per saperne di più scaricate l'app di 3B Meteo. Grazie a tutti.